La deratizzazione è un servizio in continuo aggiornamento. Alcune tecniche sono ormai superate e vietate, mentre altre sono utilizzate ancora oggi e con successo. Ma nessuno ci può dire quando il nostro lavoro farà effetto. Fino ad ora. Romani presenta un nuovo concetto di deratizzazione, diversa da come l'hai sempre conosciuta. Entra nel futuro e connettiti con il tuo smartphone per un servizio trasparente, moderno e tempestivo. Reportistica completa e immediata, con evidenza dei punti critici. Una deratizzazione sostenibile per garantirti sicurezza alimentare, igienico-sanitaria, merceologica, ambientale. Romani. Qualità certificata al tuo servizio.